Un milione di euro di investimento, 9.000 abitazioni raggiunte, il 92% del territorio coperto. A Francavilla sono stati completati i lavori di posa della fibra ottica da parte di team che è pronta ad offrire il suo servizio a cittadini ed imprese con un collegamento veloce internet fino a 100 megabit in download. È un grosso passo avanti rispetto alla rete tradizionale che arriva a velocità di 20 megabit al secondo e quindi è chiaro che offre tutta una serie di opportunità sia alle aziende per tutti i servizi che sono a disposizione per il business, tipo il cloud computing, sia ai privati cittadini per utilizzare delle applicazioni che oggi viaggiano a velocità di 4 volte, 5 volte più basse. Parliamo anche di gaming online, download di contenuti musicali ad alta velocità, download di film in 3D e in HD, per le aziende parliamo soprattutto di servizi legati alla trasmissione di dati, immagini in alte velocità, cloud computing, ci sono servizi per la pubblica amministrazione, la videosorveglianza del territorio per esempio, molto importante, che con questa piattaforma consentono una ricezione di immagini in tempo reale, cosa che prima era ovviamente differita. Francavilla dunque si appresta a diventare una smart city con il comune che annuncia nuovi servizi. Già si comincia a pensare a un sistema di videosorveglianza ma comunque ad altri servizi che potremo noi direttamente comente o usufruirne e quindi anche avvantaggiare i nostri cittadini con l'utilizzo di servizi che poi noi potremo offrire ad alta velocità.